Alta tecnologia, intrattenimento e semplicità, Medley HMR500 Plus, la soluzione all-in-one, per la riproduzione, la registrazione e la condivisione dei file audio-video. Le numerose connessioni di cui dispone permettono di riprodurre e registrare o copiare su hard disk da qualsiasi fonte audio-video, TV, PC, DVD, videocamera o HS. Oltre all'HD interno, Medley è in grado di dialogare con moltissimi supporti, HD esterni, pendrive, ecc. Pianificate le vostre registrazioni con il time recording, oppure sfruttate la nuovissima funzione TimeShift, grazie alla quale potete mettere in pausa un programma TV e riprendere la visione indifferita. Medley registrerà e riprodurrà in contemporanea il video, permettendovi di ritornare indietro e di avanzare velocemente fino al punto in cui la trasmissione è arrivata. Inoltre, grazie alla nuovissima funzione NDAS e alla chiavetta USB per la connessione Wi-Fi in dotazione, potrete collegare Medley alla vostra rete domestica, via cavo Wi-Fi, e potrete riprodurre in TV i file multimediali presenti sull'hard disk di un PC in rete e viceversa. Per gli utenti più tecnologici, Medley mette a disposizione Pistar, un software aggiuntivo che permette di implementare nuove funzionalità. Samba Server per condividere in rete locale cavlata Wi-Fi il contenuto del Medley. Supporto peer-to-peer per scaricare direttamente file multimediali, anche a PC spento, dalle reti BitTorrent, Card, Overnet e Kademlia. FTP Server per condividere il contenuto del Medley attraverso la rete Internet. Potrete quindi accedere al vostro file anche se non sarete in casa. Web Server per pubblicare online un sito web, i vostri file ovunque intorno a voi. Ma Medley non si ferma qui. Alla 4GX hanno quanto è importante la qualità. Medley dispone infatti di un'uscita HDMI che permette di godere appieno dell'alta definizione e delle uscite ottica eco-assiale per collegarlo all'amplificatore per un audio digitale multicanale senza precedenti. Tecnologia, intrattenimento e semplicità. Medley si rivela estremamente semplice e intuitivo nell'uso. Al primo avvio vi troverete di fronte ad un menu iniziale in italiano che vi guiderà attraverso poche impostazioni. A configurazione ultimata non rimane altro che navigare tra le cartelle grazie al comodo telecomando. Immediato risulta anche l'inserimento dell'HD. Nessuna vite da svitare grazie ad un comodo sportellino posto sulla parte superiore del dispositivo. Il design, altra chiave del successo di Medley. Un look moderno caratterizzato da linee semplici e bordi smussati. Una forma snella e verticale che gli consente di occupare pochissimo spazio. Una scocca in plastica robusta, nera, lucida, con connessioni a scomparsa sul frontale. Qualità che gli permettono di accostarsi a qualsiasi arredamento, dal classico al moderno. Techsheet. Incredibile varietà di connessioni. Il dispositivo, del peso di circa 900 grammi, è fornito in una confezione di pregio, con un corredo molto ricco. Un telecomando con due batterie, una pen drive wireless, un cavo HDMI, un cavo Firewire, un cavo OSD, un cavo di rete RJ45. Due cavi SCART, HD non incluso nella confezione. I tuoi film, i tuoi video, le tue foto, la tua musica, il tuo Medley.